l'altro giorno m'è caduta alla chiave del garage in una grata del marciapiede se andate in fila proprio nella grata liscia come una moneta nel salvadanaio per fortuna non era una di quelle grate che danno su un abisso buio senza fondo di quelle da cui a volte sembrano provenire su rite catacomba no era una di quelle poco profonde quindi riuscivo addirittura a vederla la chiave lì a 30 centimetri da me ma irraggiungibile e lì le serve una calamita mi fa un signore distinto che si avvicina le serve una calamita sottile così che passi attraverso le stecche della grata inoltre poi nella calamita dovrebbe trapanarci un forellino con una punta da due così da legarci un filo da pesca in nylon ma quello fino da 0 20 di quelli da riva per intenderci senta me ascolti in cretino mi fa un altro usando quell'incipit di cui non ho mai capito il senso ascolta un cretino ma perché dovrei ascoltare un cretino me lo dichiara addirittura all'inizio proprio ascolti in cretino se vuole risolvere le occorre una pinza emostatica becco lungo e punte piatte una di quelle per clampare le arterie non so se ha presente sì vabbè e dove la troviamo una pinza emostatica becco lungo e punte piatte ha commentato una signora con le buste della spesa guardi diretta a me qua ci vuole solo un po di buonsenso a lei le basta una semplice candela lei accende la candela fa colare la cera attraverso la grata direttamente sulla chiave pian piano si formerà una stalagmite di cera che salirà finché non spunterà fuori dalla grata e a quel punto la tirerà su tutta la chiave appresso il frattempo si era formata una piccola folla che si era appassionata alla questione e i commenti ormai si moltiplicavano tanto vabbè lo sappiamo tutti sì che quelle grate hanno le stecche messe strette apposta perché ci passino solo le monete no è certo il governo ci fa due punti di pille coi soldi nostri nei grati dei marciapiedi è una specie di prelievo forzoso in germania non ce l'hanno così hanno la griglia a quadretti io frastornato ma anche un po ammirato da tanta varietà di competenze ascoltavo l'evoluzione di quella discussione fin quando non è arrivato un signore sulla sessantina che ha fatto segno di fargli spazio noi ci siamo tutti zittiti e posti in cerchio attorno a lui perché emanava un'aura speciale di muta autorevolezza il tizio ha mollato un paio di pestoni violentissimi sulla grata facendo scrostare dai bordi lamine di ruggine e fanghiglia secca poi si è sfilato la cintura dei pantaloni l'ha infatta passare come un filo da cucito attorno a due stecche della grata afferrato i due capi della cinta e attirato su la grata si è alzata come un ponte levatoio e io ho recuperato la mia chiave tra lo stupore e gli applausi della gente ovviamente avevamo mille domande per quell'uomo prodigioso ma come l'ha imparata questa cosa dove l'ha letta come fanno in germania che hanno le grate senza stecche e gli ci ha zittiti con un gesto poi ha parlato con la sua voce calma e profonda non l'ho letta da nessuna parte mi capita fin da ragazzo di perdere cose nelle grate dei marciapiedi e allora con il tempo l'esperienza la dedizione ho imparato a fare ciò che avete visto ed è l'unica cosa che so fare bene l'unica che conosco perché in verità in verità vi dico ognuno di noi conosce una cosa sola e su tutte le altre deve tacere. Quelle parole ci arrivarono dritte nei cuori e nelle menti come pura luce diversi di noi caddero in ginocchio col capo chino e le mani giunte mormorando ognuno di noi conosce una cosa sola altri si aggrapparono alle vesti dell'uomo implorando insegnaci altro maestro ma lui li riprese con dolcezza io non so altro io non posso insegnarvi altro non mi azzardo a parlare di politica di finanza di vaccini di marte di calcio o di carbonara io posso solo mostrarvi come si recupera una chiave da una grata del marciapiede poco profonda e questo perché e tutti noi come in un coro di chiesa perché ognuno di noi conosce una cosa sola e su tutte le altre deve tacere iniziamo a ripeterlo finché non divenne una specie di inno sacro addirittura in latino singuli singula novit eccetera taceat singuli singula novit eccetera taceat dopo un po' è arrivata la municipale che ci ha fatto sgomberare perché stavamo fermando il traffico ma invece io credo soprattutto perché stavamo diffondendo un pensiero pericoloso e rivoluzionario sapevamo di aver visto la verità perciò da quel giorno iniziamo a riunirci di nascosto per celebrare le nostre funzioni e diffondere il credo quindi se camminando di sera su un marciapiede sentite provenire un sussurro di catacomba da una di quelle grate che danno su un abisso buio e senza fondo sappiate che siamo noi che ci ritroviamo lì sotto per celebrare e diffondere un rinnovato patto di pace e salvezza sociale ognuno di noi conosce una cosa sola e su tutte le altre deve sta muto valerio prea